E' bella a tutti ragazzi e ragazzi, io sono il vostro vero Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video. Come potete vedere, quest'oggi non siamo su un gioco, non c'è la gamma, quindi come potete vedere siamo su un foglio di OpenOffice Draw. Questo è un foglio semplicemente utile, a differenza di Word, per creare schemi. Come potete vedere, se vi ricordate, poco tempo fa, un bel po' di tempo fa, avevo fatto un video in cui introducevo un videocorso di inglese. E quindi era un breve video, un interduttivo di un paio di minuti in cui vi spiegavo l'obiettivo del corso. Allora, quest'oggi, questo video è della prima lezione stessa del videocorso. E quindi diciamo di partire subito con le basi. Allora, possiamo cominciare parlando delle parti del discorso, quindi semplicemente delle frasi. Infatti, nel discorso possiamo semplicemente avere dei sostantivi uguali, quindi comunque una persona, un luogo, una cosa, o comunque semplicemente una creatura vivente, una qualità o un'azione. Quindi, possiamo semplicemente fare degli esempi che possano essere tranquillamente studenti. Quindi, quelli che vuoi seguire questo corso, potete definirsi tranquillamente degli studenti. Semplicemente anche il cinema, che appunto è il luogo dove si può andare a vedere il luogo. Cioè, in un film, quindi un proprio luogo vero e proprio fare una cosa, come ad esempio il computer. E tante altre cose, semplicemente oggetti o creature viventi. Poi abbiamo il verbo, che all'interno della frase è fondamentale. Che il verbo, comunque, descrive l'azione o uno stato. Quindi, nel caso in cui il sostantivo indica un essere vivente, una persona che è in grado di fare qualcosa, in quel caso puoi legare un'azione, altrimenti uno stato di essere, ad esempio, il verbo to go, che è semplicemente il verbo andare, e è un verbo che descrive un'azione, quindi, semplicemente, o come il verbo to speak, che anche in questo caso, si descrive un'azione. Ad esempio, il verbo to love, che significa, appunto, amare, perché non lo sapesse, indica uno stato, un modo di sentirsi. Infine, abbiamo, poi abbiamo degli aggettivi. E, in questo caso, l'aggettivo, descrive una proprietà del sostantivo, che il sostantivo può, semplicemente, come possiamo spiegare, Ad esempio, abbiamo, come prima, computer, abbiamo utilizzato computer come sostantivo, per fare un esempio. E quindi, l'aggettivo, in questo caso, va ad avvalorare una caratteristica, o ad descrivere una proprietà del sostantivo. Ad esempio, nel caso del computer, potremmo utilizzare l'aggettivo, per dire, small. Quindi, piccolo. Quindi, magari, potremmo dire, che, di avere, un computer piccolo, se magari vogliamo intendere, che, piccolo, nel senso che, sia poco potente. Al contrario, big. Al contrario, quindi, magari, un computer, abbiamo, in caso vogliamo intendere, che sia grande di potenza. Oppure, semplicemente, un colore, come ad esempio, può essere, black, o comunque, bianco, white. Quindi, descrivere il colore del computer. Quindi, diciamo, questo per intendere, il, diciamo, le caratteristiche del sostantivo. Poi, successivamente, nella frase, possiamo, aggiungere, degli avverbi. Che, di solito, l'avverbo si riferisce, a un verbo, specificando, come si fa qualcosa, o quando, e dove ha avvenuto qualcosa. Ad esempio, possiamo, utilizzare, ad esempio, now, che significa, ora, o yesterday, che significa, ieri, per definire, comunque, quando è stato, quando è avvenuto, il momento. Quindi, quando è stato, quando è stato, fatto, quell'azione. O comunque, possiamo dire, there, qui, che sarà avvenuto, in quello specifico, posto. Poi, abbiamo, il pronome, che, in genere, sta a indicare un sostantivo, che, bene utilizzato, appunto, al posto del sostantivo. E, sono, i classici, che, utilizziamo, per esempio, al, come le, alle persone. Quindi, quando congiugiamo, il verbo, abbiamo, tutti questi, pronomi, che, ora, state vedendo. Quindi, abbiamo, questi, pronomi, per, sostituire, l'azione, del sostantivo, quindi, la persona, in questo caso, o, l'oggetto, nel caso di, it, che fa, l'azione. Poi, sempre, all'interno, della fase, possiamo, utilizzare, semplicemente, delle preposizioni. Questo, in caso, in, le preposizioni, comunque, sono, utilizzate, prima di un sostantivo, o, un pronome, da, per introdurre, un complemento. Quindi, una, seconda, frase, magari, una frase, sub, subordinata, alla prima. Comunque, abbiamo, utilizzata, per, aggiungere, qualcosa, alla frase. Quindi, possiamo, utilizzare, semplicemente, and, che, la classica, che, non, utilizziamo, la, e, per unire, le, tre, due frasi. Che, bigos, che, utilizziamo, per, spiegare, qualcosa, che, infatti, significa, perché, oppure, or, che, significa, che, rappresenta, o, oppure, quindi, per, quando, dobbiamo dare, due, tipologie, di, di, possibilità, quindi, da scelta. Comunque, ragazzi, ho sbagliato. La condizione serve per, unire, due parole, o, frasi. Non, quindi, non ascoltate, la, la definizione di prima. Quindi, infatti, la, aggiungo. Se riesco. Quindi, appunto, dicevo, per, unire, due parole, o, frasi. Allora, invece, la, preposizione, è lei che, viene, utilizzata, prima, di un sostantivo, pronome, per, introdurre, un, complemento. Infatti, infatti, come sempre, possiamo usare, on, che, significa, sopra, in, che, significa, dentro. E, quindi, abbiamo, parecchie, tipologie, di, preposizioni. Quindi, se, come dicevo, spesso, vengono utilizzate, per, un, per, insomma, un, complemento, quindi, specificare, qualcosa. Allora, poi, abbiamo, le, interiezioni. Che, sostanzialmente, sono, le, esclamazioni. Allora, queste, esclamazioni, sono, vengono utilizzate, se, in particolar modo, e, non, in fase, comune, in terza persona, comunque, in disposti in prima persona. E, ad esempio, quando, si saluta, in, con, hai, in, comunque, in modo, molto, nerevole, molto, enfatico, o, comunque, quando, si ha, una, meraviglia, con, un, semplice, o, no. e, quindi, si ha, questa, tipologia, di, 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 scheramazione, comunque, che, si hanno, si, ha, comunque, un, esclamazione. Infine, possiamo, aggiungere, se riesco, gli articoli. E sebbene gli articoli vengono utilizzati per introdurre un sostantivo. In totale in inglese esistono tre articoli. E sempre abbiamo il the che racchiude tutti gli articoli determinativi e a e n che questi due articoli racchiudono tutti gli articoli indeterminativi. In questo caso vengono utilizzati rispettivamente prima di una parola che comincia per funzionante e prima di una parola che comincia per vocale. Allora ragazzi direi che per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se è così mi raccomando lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale, iscrivetevi su Twitter, Instagram, Facebook e ovunque voi vogliate. Ciao a tutti voi.